Le vie di Puglia, la ciclovia dell'Ofanto, un grande tour in bicicletta con sei appuntamenti dall'8 al 18 dicembre per una nuova narrazione di un fiume e di un parco che vogliono ritornare a scrivere il futuro di una parte del mezzogiorno. Una ciclovia tra patrimoni naturali, paesaggi culturali e comunità ospitali. La ciclovia dell'Ofanto è un'iniziativa progettuale della provincia di Barletta, Andrea Trani, in collaborazione con la Federazione Italiana Biciclette e Ambiente nell'ambito delle attività svolte dalla stessa provincia per la gestione della delega regionale al parco proprio del fiume Ofanto. Essa si sviluppa all'interno della valle dell'Ofanto a cavallo tra le province di Potenza, Foggia e Bat, quale azione bandiera ha finalizzata la definizione di un brand turistico, oltre che presidio per la protezione della natura e strumento di costruzione di un'identità della valle. La ciclovia segue il corso del fiume più importante della Puglia attraverso strade calme e sentieri poco battuti dai paesaggi delle pietre. La media e la bassa valle del fiume regalano poi scorci spettacolari con viste a perdita d'occhio sui paesaggi di frontiera tra la Puglia e la Basilicata, verso orizzonti lontani come il Vulture e le colline a grano sugli orli della Madonna di Ripalta e dalle colline di Canosa di Puglia fino ad arrivare a Canne delle Battaglie.